Buongiorno a tutti per la partecipazione stasera a questa nuova conversazione nel nostro ciclo che come fondazione Edoardo Tiponi, sullo Stato di Crociani, proviamo di attualità culturale in dialogo e questa sera è un grande piacere quello di presentare in questa rassegna l'ultimo libro, un libro intervista, scritto da Raffaele Colapietra con Roberto Dante che è questo, l'Italia di mezzo, per una storia delle terre appunzesi, edito da Carappa. Vi dico subito che è un libro, a mio giudizio, formidabile, un libro che si può permettere solo una persona che ha avuto una lunghissima attraversata negli studi, nella conoscenza della storia, della storia grande, di quella piccola, delle tante storie dell'Italia e in particolare di questi territori e che può permettersi un bilancio veloce, allo stesso modo incisivo, profondo, denso, pieno di scoperte, pieno di spunti nuovi, pieno di anche momenti in cui si rendono più forti e più evidenti delle verità delle ricerche, magari coltivate per lungo tempo, con maggiore estensione, con anche maggiori dati bibliografici, con grandi apparati che però non hanno la nitidezza di alcune frasi molto veloci che però condensano grandi aspetti. Mi ha molto colpito, ad esempio, in colui che è l'autore, probabilmente, della più importante storia di Pescara della sua provincia, il fatto, in una mezza pagina di questo libro, di definire con schietta decisione come e perché il chi fece nascere questa provincia con un'efficacia, con una forza tagliente che non gli era riuscita nemmeno in quella grande opera e lui stesso, tutto domato, ne prende atto con una certa soddisfazione. Io non amo particolarmente l'enfasi, anche se questa è una classica dichiarazione da poco comune, ma veramente questo è un libro che secondo me ogni abruzzese minimamente consapevole, minimamente interessato a capire la sua regione dovrebbe leggere. Bisognerebbe trovare una maniera per l'editore Carabba, non so se tramite il centro, tramite le istituzioni, di far avere in ogni famiglia abruzzese questo libro, perché veramente nel giro di poco più di un centinaio di pagine, con una bella intervista, certo, alle volte le domande sono un po' più sostenute, le domande mostrano più dottrina accademica in qualche modo, ma le risposte, pur ne a loro densità, sono risposte che chiunque secondo me è in grado di cogliere, di capire e di farsi l'idea, e anche in qualche maniera di superare degli stereotipi. Questo libro conosce delle tendenze di fondo, ad esempio, superare l'idea stereotipatissima dell'abruzzo come un luogo dell'isolamento, mostrare la porosità che esiste, la possibilità di attraversare, come ci siano appunto delle relazioni, come ci siano delle tendenze che uniscono la montagna al mare e che soprattutto fanno dell'abruzzo una regione profondamente inserita nei grandi flussi storici della nostra penisola, ne a lunga durata, distinguendo delle tendenze di fondo che sono sempre le stesse, ma cogliendo poi sempre ogni volta puntualmente la novità del momento, la novità del periodo, ciò che muta e ciò che poi cambia. Ripeto, un libro secondo me molto importante proprio per la sua capacità di chiarire, magari nella sterminata biografia del professor Colapietra troviamo molte possibilità sicuramente maggiori di profondità, di ricchezza di dettaglio, di approfondimento appunto, ma qui c'è proprio la pennellata veloce che permette, secondo la logica di una casa di plice che in questo, se non altro, di idea di una linea molto interessante o collana, di farsi un'idea. Ecco, secondo me questo è proprio un libro prezioso per farsi un'idea sull'abruzzo. E questa sera, professor Colapietra, nel farci la cortesia e il regalo di venire a parlare con noi, di questo libro, ha scelto due interlocutori di prestigio, due intellettuali che anche loro si sono sforzati di coniugare un sapere che varica la dimensione abruzzese, ma con un forte radicamento nelle nostre tradizioni, nei nostri personaggi, e poi magari farò riferimento in particolare a un libro di Fabrizio Masciangeli, che è alla mia sinistra, perché adesso do subito la parola a Dante Marianacci, peraltro qui è co-padrone di casa, almeno come me, che è vicepresente di questa fondazione ed è il presidente del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani, anche se questo colapietra non mostra una grande simpatia nei confronti del nostro predico. io penso che non se la prenda, e gli do subito la parola. Ma io ti devo smentire, perché a un certo punto nel libro, quando si tratta di scegliere tra D'Annunzio e Silone, il professor Colapietra sceglie un socialista, un vecchio socialista, che sceglie da lui, da Silone, però poi sceglie a Cerpo, per la provincia di Pescara, tutti diciamo sempre, è stato Gabriele D'Annunzio, invece è stato a Cerpo, giustamente, e ce lo dimostra il professor Colapietra. Dunque, io non vedevo da tanto tempo il professor Colapietra e l'ho ricontrato dieci minuti fa e mi ha un po' spiazzato, perché mi ha detto, io l'ho fatta guidare, perché lei è stato un uomo di mondo, ha girato il mondo, e quindi può parlare di cose, guardandolo un po' anche da un'altra visione. E allora mi è venuto in mente un verso di un grande poeta anglo-americano, Thomas Stemsagliott, il quale ha detto Home is where we started from, la casa e da dove siamo partiti. E allora il professor Colapietra, ai miei occhi, io pensavo mi avesse invitato, perché negli anni settanta facevamo dei programmi culturali, ma a Sanchez, se non ricordo, per Rai 3, io dall'altro ho fatto intellettuale e potere, e c'era anche lui in mezzo a questi personaggi. Invece, ecco, Home is where we started from, la casa e da dove siamo partiti, perché il professor Colapietra è un personale, insomma, lui non è uno degli storici abruzzesi, è l'uomo storico abruzzese, uno ed uno. Il vero problema è che si sia veramente interessato all'Abruzzo, a 360 anni. Il problema è che ora non so se ci saranno nuovi storici che potranno imitarlo e seguirlo nella straordinaria carriera che ha fatto. Ecco, io, che ho vissuto per più di trent'anni in giro per il mondo, devo dire che è l'unico momento in cui mi è sembrato che l'Abruzzo fosse una regione unita, almeno nell'immaginario, degli stranieri e, purtroppo, subito dopo il terremoto dell'Aquila, perché all'estero passava la notizia che l'Abruzzo, e quindi tutto l'Abruzzo, era stato colpito dal terremoto. Io mi trovavo a Viena, mi ricordo che organizzavamo dieci concerti, subito, per aiutare. Anzi, il Parlamento austriaco in assoluto è stato il primo Parlamento del mondo che ha raccolto fondi per l'Aquila. Ma nel giro di dieci giorni è accaduto, è qualcosa straordinario, è la simpatia che hanno gli austriaci. Ora c'è qualche problemino, insomma. E loro credevano che l'Abruzzo fosse stato tutto colpito. Allora sono stato costretto a mettere insieme un gruppo di allievi dell'Accademia di Belle Arti di Viena, tutti esperti di fotografia, li ho mandati, grazie alla Fiat che ha pagato il viaggio, in Abruzzo, a fotografare non solo il terremoto e le zone terremotate, ma le bellezze della nostra regione. E poi abbiamo fatto una grande mostra a Viena su questo. Io però volevo parlare e fare una domanda al professor Colapietra, proprio sui... ecco, per restare in tema, perché a me l'Abruzzo dall'estero mi passa sempre una una grande nebulosa senza testa e senza... cioè, soprattutto a livello culturale. L'immagine, spesso mi dicevano negli anni Ottanta, dicevano ah, di dove è lei? Ah, ma lì fanno un bellissimo festival della musica russina, Pesaro, no? Pescata, per esempio, no? Ecco, allora, vorrei affrontare questo tema, l'Abruzzo visto dagli stranieri attraverso i viaggiatori. Mi pare che lei faccia riferimento a uno solo, però le accenna, Lira. Invece ci sono stati parecchi a cominciare da Alexander Liuma, poi c'è stato la Canziani, tra l'altro a cura del professor Trilli, è stato appena ripubblicato Il viaggio in Abruzzo della Canziani, un libro straordinario, Gregor Robius, cioè, e altri, che hanno visto un Abruzzo diverso da come l'hanno visto gli abruzzesi e gli italiani. da una parte, come giustamente dice il professor Colabietra, Lira, per esempio, dimostra, perché ha girato veramente l'Italia, si è soffermata in Abruzzo, ma per esempio ha scritto anche un libro sulla Calabria, e dimostra che l'Abruzzo già ai suoi tempi, fine Ottocento, eccetera, è molto più, metà Ottocento, e molto più civilizzato della Calabria ed è un mondo diverso, completamente diverso da Calabria, ma anche la Canziani che si sofferma molto sulle tradizioni locali, Scanno, eccetera, in modo di vestire, però scoprono un Abruzzo diverso che non si conosce nemmeno in Italia tanto, che sono più i viaggiatori stranieri, i ghen, eccetera, a visitare le zone che imperdi nella nostra regione, che non gli italiani che viaggiano, a parte questo primo Levi, che è un omonimo, ma non è il primo Levi, allora, l'Abruzzo visto da dei viaggiatori, se ci può dire qualche cosa su questo argomento, e quindi l'Abruzzo in qualche modo anche visto dall'estero, chiaramente io nel mio lavoro come fa il professor Colapietra, che anziché vivere con grande successo, perché in Giovenezia era già un grande storico, con la pietra l'esperienza dello storico nazionale che si interessa, lui si è anche interessato moltissimo di cose nazionali con contributi anche molto significativi, però, a differenza di molti altri abruzzesi, come lo stesso Dalluzzi che abbiamo citato, Silone, Tlaiano, Pomiglio e quasi tutti insomma sono andati in cuore dell'Abruzzo per realizzarsi, invece ecco, è incomiato, infatti, ammirevole, infatti, il professor con la pietra che è un professore come sapete all'Università di Salerno e voluto tornare in Abruzzo, restare in Abruzzo nella sua aquiva e studiare a fondo la storia della nostra regione. Però la domanda era l'Abruzzo visto dai viaggiatori, si può aggiungere qualcosa a quello che ha già detto il libro? Dunque, anzitutto, ma ce ne va a vedere per quello che può interessare il colto pubblico che è qui presente che io non ho scelto di venire in Abruzzo, sono stato indotto da circostanze particolari, personalistiche, altrimenti non l'avrei fatto. Ho dovuto accettare questa sorta, questa, come dire, psicologica e psicoanalitica nel senso sentenza con animo forte e l'animo forte mi è stato suggerito e in certo senso aggiorato da una circostanza del tutto occasionale, cioè che gli anni in cui io sceglievo, ero indotto a scegliere questa soluzione provinciale dell'Aquilana, tra gli anni settanta, rispondevano a un grande riferimento per la cultura e per la storia della mia città che è l'Aquila e cioè il centenario della morte dell'Antinori. L'Antinori è questo grande erudito settecentesco che ha dato un grande contributo alla conoscenza dell'Aquilus proclamato e moderno e che è per l'Aquila e per la regione è un punto di riferimento ineludibile. Allora, in prospettiva di questo centenario io ho steso un'ampia rivisitazione della mia città dell'Aquila in chiave non erudita antinoriata, ecco qua di portare una novità nell'impostazione e negli obiettivi e il libro i due volumi si intitolano strutture sociali ed urbane della città nel 5-6cento cioè qualche cosa che presupponeva l'Antinori che è vissuto nel secolo successivo però poteva anche essere indipendente da esso. A me quello che è interessato è studiare la città in quanto tale delle strutture sociali delle classi delle vicende politiche e strutturali di una importante città di provincia quale è Avila nel 5-6cento e poi l'aspetto urbano legato al grande terremoto del 1703 prima di questo e dopo nel corso della ricostruzione di quel secolo e quindi questa è una forma diciamo particolare con cui io mi sono avvicinato all'Abruzzo e poi la sorda e la fortuna in quegli anni medesimi di occuparmi del Fucina nel centenario del prosciugamento e anche là una subregione significativa che aveva un suo significato tra 8 e 900 e che concludeva un suo certo discorso molto particolare con la riforma agraria del 1950 e al tempo stesso nel 1980 per la città di Pescara un primo un primo appresto diciamo molto documentato peraltro e in situazione archivistica e documentaria che all'epoca era veramente difficilissima ed attua ma che comunque io riuscivi a superare in maniera da dare un profilo amministrativo e al tempo stesso urbanistico e questo è sempre importante credo l'attenzione all'aspetto strutturale della città cioè non soltanto le vicelle amministrative e politiche ma come la città cambia l'immensa differenza che c'è qua a Pescara tra il nucleo pescavese e il nucleo castellammarese di per sé da una diversità che poi non facilmente si è potuta riunire in quella che è la città moderna dei tempi nostri quindi quella a cui tengo è questa diversità di prospettiva ecco una storia della città come vicende sociali e vicende urbanistiche per due città protagoniste come anche la di Pescara non era stata fatta fino ad allora ecco a questa prima genitura di metodo ecco a questo tengo tanto più che qua per rifarmi a quello che così cortesemente ha suggerito l'amico Dante Dallianacci queste cose precedentemente poi erano state del tutto trascurate nel senso che l'approccio viene scoperto ecco adesso questo fatto di scoprire una regione che sta a 100 km della Roma che sta al centro della penisola che non si vuole attraversare per chiunque o con intenti pacifici o con intenti militari invada il regio di Napoli è qualche cosa di sorprendente la regione in questo senso viene scavalcata perché si va verso Napoli per conquistare la capitale e viceversa c'è una realtà che non è solo ecco questo è un altro argomento su cui mi breve di porre l'accento non è solo la regione della transumanza è qua purtroppo la successione di Danduziana è stato veramente dell'eteria perché questo ricordo di un abruzzo particolare che egli ha visto questo è un dato di fatto una testimonianza diciamo visiva del grande fratturo che passava e che egli certamente ha avuto modo di poter contemplare è però solo una minoranza dei comodi avruntesi è interessata alla pastorizia e c'è una grande presenza di agricoltura più o meno specializzata che poi col tramonto della pastorizia è stata questa quella che ha preso il controllo della situazione è una grande proprietà che la mamma da cui viene appunto già qua cioè una mentalità novecentesca una mentalità di sfruttamento del territorio nel senso delle ricchezze che non sono trascurabili anche da tutto di vista assolutamente agraria che cosa porta questo e questo è di grande importanza e credo che anche in questo caso ci sia una novità nella mia impostazione la necessità dico necessità di una classe di gente specifica cioè gente in casa della pastorizia che rispondesse al tribunale di doccia che aveva con il sistema della dogana una giurisdizione particolare quindi notari dottori di legge e uomini esperti che potessero andare a non a caso si chiamava la devotazione della 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 generalità con il termine catalano e allora questo cioè sentirsi come un mondo particolare egemone più risco più potente e più preparato culturalmente che è venuto meno fra 7 e 800 ma è stato sostituito da un centro di grande altrettanto non tengo l'importanza che è il centro agrario teramano che è quello che è la grande proprietà di una regione naturalmente ricca come l'agricoltura seramana quale è stata essa ma sempre ricca perché ha delle prerogative particolari che è consapevole di questo suo ruolo egemonico e lo esercita nel governo della nel primato della regione della di viene la soluzione da cui è stata accennata ecco questo fatto diciamo di strutture della città di contrasti o comunque dialettica sociale all'interno della città di sviluppi urbanistici che cambiano le città che cambiano profondamente questo discorso si potrebbe fare anche per altre città come Sulmoda per esempio Sulmoda che ha un sviluppo che si ferma a nord perché non c'è motivo di andare verso Santo Spirito e verso la Coppia Perigna mentre si sviluppa verso sud perché sud c'è la montagna e verso la montagna per tanto piano sostanzialmente e nel corso del Medioevo prima in Sampo Terza la città si sviluppa in un senso determinato che rispettia meglio la vocazione ardentale e la vocazione passolare della città ora i viaggiatori venuti hanno questo senso della scoperta di qualche cosa che è la regione e lo indico la regione più settentrionale del Regno di Napoli cioè praticamente una specie come dire di di anticamera dell'inferno si potrebbe dire in certo senso come il limbo dantesco cioè qualche cosa dopodiché viene Napoli e poi viene il profondo sud appunto l'aspetto asperrima della Calabria o l'aspetto indolente della Puglia questi sono stereotipi come voi ben comprendete con un fondo di verità innegabile in cui l'Abruzzo fa appunto da anticamera sostanzialmente quindi si tende a superarlo senza tenere presenza quelle che possono essere le sue specifiche caratteristiche che risentono necessariamente almeno in avanti dell'Abruzzo e qua parliamo della pirata e della massica di Roma ecco che questa faccenda di Roma è di primaria in importanza perché in ogni caso e pure Roma è inaccessibile perché circondata dalle pavute dalla malaria infiniti antimotivi che rendevano questa grande città capitale del corpo cattolico ma difficilissima capitale ripeto la parte saldina aquilana e marsicana e allora l'Abruzzo viene preso in questa forma insomma è come qualche cosa che anticipa il profondo sud ma non è il profondo sud è qualche cosa di mezzo rispetto a l'Umbria e alle macchie non è più l'Umbria e le macchie non è quel tipo di agricoltura specializzata e non è però il latifondo non è però la grande foresta e allora soprattutto essendo venuti questi viaggiatori nel corso dell'ottocento cioè in un periodo soprattutto quindi in un periodo di trapasto e hanno colto degli spure ma spesso hanno trascurato delle cose importanti cose importanti che è questo mio intervento è stata colta da Gabriele D'Annunzio effettivamente io sono indotto mio maggiorato perché non lo hanno questo è notorio in altre circostanze vedo che voi per vostra bontà non siete insorti minacciosamente come invece mi ha accanto qualche mese fa in cui si ricordava Gabriele D'Annunzio nella sala del Contipo Comunale di Pescara perché perché l'Annunzio ha avuto l'immensa fortuna di affidarsi a persone competenti cominciando da Antonio D'Annunzio che era consigliere forse anche da quel mondo che è rappresentato da Gennaro Pinamore e da Giovanni Pazzo cioè gli etnologi sono quelli che conoscono l'abbrutto profondo che è l'abbrutto della Maiella del Borrone del Sandro che è quello in cui non a caso D'Annunzio colloga le due ricerche e di carattere trannato e di carattere poetico evocativo eccetera quindi è lo stesso praticamente la cacola tutti i bocci pur svolgendo tutto il lago del fiume Sagittario Sagittario e Scarno praticamente questo abbrutto profondamente segnato dalla natura in forme incisive in forme drammatiche e ora questo è di grande importanza perché il dialetto che poi la poesia locale abbrunzese è intorno a questa realtà io sempre ho visto in due città importanti significative dell'abbrutto cioè Lanciano e Sulmon da un lato e dall'altro del gruppo della Maiella e Borrone le autentiche capitali di questo tipo di abbrutto che è l'abbrutto teduino è l'abbrutto vero è quello che un bianco staviano già nascere chiamava la coine cioè la lingua comune della cultura specificamente abbrunzese quando c'è poesia popolare quando si intenta popolare tra persone contissime abbrunzese è quella una letteratura popolare aquilana sta a sé una letteratura popolare persicana sta a sé non ha niente a che fare con questa che è la profonda letteratura abbrunzese e quindi da questo punto di vista specificamente abbrunzese e da questo punto di vista è indombio che il contributo di un annuncio rispetto a quello più ideologico diciamo più consapevole più trammatico più personalmente sentito dagli altri seduti è da preferire mio malgrado e da questo punto grazie grazie dicevo appunto un libro che non manca di spiazzare in qualche momento perché una caratteristica che vengo all'intervento di Caprizio Masciangeli perché tutto sommato Raffaele Capitano mi ha spiegato perché avevi scelto i due interlocutori però tutto sommato siccome Fabrizio Masciangeli ha pubblicato l'anno scorso per la casa di Trice Ruppettino un libro anch'esso molto importante per ricollegare i figli della storia bruzzese e sul cammino della modernità protagonista e bruzzesi dell'Unità d'Italia secondo dopo guerra lo ha scritto con Franca Deleonardi spettatore Ruppettino in questo libro nel libro di Colavieta i personaggi bruzzesi ci sono ma non sempre sono particolarmente elogiati o sono un po' strapazzati i personaggi della bruzzesità ad esempio c'è un aneddoto che ricorda Colavieta stesso di Mattiotti meno male che non vedo Giacomo stasera e a un certo punto nel 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 il giovane il giovane il giovane con la pietra doveva scrivere un saggio su Croce e Mattiotti non so se fosse forse anche il finanziatore a pubblicazione doveva esserlo quindi ci vuole questo era interessante gli dà appuntamento a Roma a piazza santi apostoli e gli domanda nella conversazione gli domanda Raffaele che stai leggendo glielo chiede in dialetto pastese Raffaele che stai leggendo e lui gli dice sto leggendo spaventa e lui gli dice quale quale le tue quale quale spaventa gli dice Bertrand se Bertrand è un fesso è un fesso è un fesso e c'è una certa valenza a Bruxelles può sminuire a sminuire tutti il dottor Tiboni ricordava sempre che c'è l'anettoto di quel visitatore che era venuto a pescare cercando la casa di D'Annunzio e non la riusciva a trovare mancato fosse arrivato vicino a Piazza Caribati c'era uno uno che lavorava davanti a sua bottega poi gli si rivolge e gli fa devo trovare casa D'Annunzio e questo continuando a lavorare disinteressandosi di quello che di questa richiesta gli fa ci mi sta tanto D'Annunzio a pescare e poi lui gli dice ma come gli fa quello ma come questo dottor Tiboni mi dice raccontare per un muso ma come io dico io dico il poeta allora questo sempre senza vorrei dargli fare l'Ufeste di Gabriele è stata un re è una tendenza di fondo allora volevo chiedere a Fabrizio Masciangeli come avendo collaborato in questo campo come ha trovato questa trattazione con la pietra di questi personaggi pulsesi grandi e contomessi ne approfitto anche per salutare perché c'è una cosa presenza del professor Stefano Trinchese che il prolettore è legato al rapporto di costruzione culturale ci va piacere di averlo qui e di prego grazie grazie anche per la citazione del libro che ha un merito soprattutto credo credo abbia un certo interesse perché inizia con un'intervista che noi facemmo al professor con la pietra sulla sua lettura diciamo del settecento particolare la fine del settecento come fase di transizione poi se ci sarà occasione magari ci soffermeremo anche su questo perché in questo ultimo testo mi è sembrato di cogliere una sfumatura un po' diversa rispetto a quella chiacchierata ma detto questo il giudizio sul libro io un dialogo tra due storici un storico diciamo assoluto con la S maiuscola come con la pietra è uno studioso di grande struttura come Umberto Dante per me come dire è assolutamente difficile dare un giudizio a me è piaciuta soprattutto una cosa è piaciuta al di là dei contenuti poi cercheremo magari di analizzare qualche aspetto mi è piaciuta però l'idea questa struttura questo il dialogo perché il dialogo ha permesso a questi due studiosi di mettere in campo una caratteristica sono due studiosi che hanno cose diciamo hanno elementi di diversità forti per tante cose non solo l'aspetto politico che viene chiesto diciamo in prefazione ma qualche un dei sì con una qualche infettezza anche se poi secondo me la differenza non è tanto quella diciamo del socialista del conservatore ma secondo me forse è un altro è un altro va bene appunto ma al di là di questo però ci sono però degli elementi e al di là dell'amicizia del rapporto amichevole che si è poi creato ci sono degli elementi c'è un elemento soprattutto che io vedo come un elemento che li avvicina molto ed è l'assoluta libertà della loro ricerca scientifica fuori anche certe volte da alcuni meccanismi schegni e canoni accademici questa libertà è una libertà che ha portato con la pietra un viaggio nella storia nella storia non solo abruzzese ma nella storia del nostro paese che è assolutamente straordinaria con la pietra è davvero un unico in un settore come quello della storiografia dove si tende invece a specializzarsi molto su segmenti piccoli con la pietra spaziato in un arco di storiografia enorme che va dalla prima età medievale fino ai nostri giorni fino al contemporaneo e Umberto Dante invece si è più concentrato sulla contemporaneità anche se come dire analizzato a tre parti per esempio la fine del settecento i massisti eccetera ma anche lì c'è stata una libertà nel senso che a un certo punto poi ha cominciato a integrare queste sue conoscenze con altre e ha cominciato a occuparsi di storia della comunicazione con una particolare attenzione al ruolo narrativo e di analisi storica dell'immagine per esempio ecco allora questa ampiezza questa libertà di ricerca ha permesso soprattutto al professor Colapietra e in questo libro viene fuori in maniera prepotente la capacità di leggere il lungo periodo dei fenomeni il lungo periodo cioè analizzare le grandi questioni della storiografia abruzzese con l'occhio del lungo periodo di colui cioè che ne sa recuperare le radici più lontane per rispondere per come dire in qualche modo prendere coscienza del contemporaneo della realtà di fronte alla quale noi ci troviamo e molte questioni le principali questioni essenziali della storia bruxese vengono affrontate con questa prospettiva di lungo periodo però poi alla fine professor Colapietra a me pare che il problema dei problemi sia uno e da qui io vorrei partire almeno con la prima questione cioè la possibilità di definire l'interrogarsi intorno ad un'identità abruzzese un'identità unitaria o comunque che abbia una sua compattezza oppure una conclusione diversa cioè l'inevitabilità di una identità frammentaria spesso contraddittoria dell'Abruzzo che in realtà si costruisce nel tempo soprattutto con un meccanismo duale soprattutto con un dualismo la montagna all'interno contro la costa l'Aquila contro Pescara la valorizzazione dell'ambiente contrapposta allo sviluppo industriale e soprattutto all'economia del mattone ecco è veramente impossibile perché questo è un problema grande un problema tra l'altro secondo me grande per la politica il problema dell'identità di una regione è davvero insolubile il problema dobbiamo veramente rassegnarci a questa dualità che non arriverà non può arrivare mai a sintesi fortunatamente è stato detto soprattutto nelle ultime parole che non dice Massaggio in modo così risoluto e crudo il quesito è stato posto che io non posso che rispondere con altrettanta nettezza io ne dubito fortemente che si possa arrivare a questa compattezza di una regione che è profondamente divisa nel senso che c'è stata costantemente una egemonia di una parte sull'altra ma non c'è stata mai una collaborazione dell'una parte con l'altra e questo è stato proprio D'Annunzio D'Annunzio Aquila e Teramo non le conosce non sa che cosa sia Aquila e Teramo perché le può fare a meno perché c'ha la maiella in Borrot c'ha Isangelo c'ha Gennaro Finamore c'ha Giovanni Pazza c'ha Antonio Tenino e sono più che sufficienti di Pugge di Ranac un po' che importa di Antinori forse non conosce le delle esistenze e qui sono dati di fatto cioè questo aspetto periferico rispetto a Roma è fondamentale nell'asse verticale che scende verso Napoli questo asse verticale passa necessariamente per l'Aquile sul mondo quella che negli ultimi decenni è chiamata correttamente la via degli Abruzzi che è una dizione relativamente recente lo accendo anche io ma la via degli Abruzzi è Agile sul mondo che è Sertisangelo Isernia Venato Capo Napoli e che prescinde tutto dal resto dell'Abruzzi questo è l'itinerario seguito da tutti i bimbasconi da Carlo Taro fino a Carlo di Borbosa del Settecento fino ai Miemontesi i quali poi sono passati per Pescara nel 1860 Vittorio Consuelo come è ben noto anche il sito per la nuova città ma quello praticamente la comincia e nel 1860 si comincia a dire questo è il sito per la nuova città quando queste città ci stanno da secoli e secoli in altre parti dell'Abruzzi c'era Ferro c'era Aro c'era Pescara c'era Chiesi c'era Penna c'era Tumona eccetera e quindi questo criterio per cui l'Abruzzi è verticale sostanzialmente ecco questa è la sensazione che si ha per lunghissimo tempo cioè gravita verso Napoli ma gravita verso nord verso l'Umbria e la Toscana e ora la costa l'Umbria e la Toscana non sa che cosa si vede è qualche cosa ed è estremamente circoscritto anche prima della Ferrovia io sempre ho sottolineato l'importanza assolutamente di rimente che ha il 1863 per la storia non solo della città di Pescara soprattutto della città di Pescara ma per tutta la costa perché la costa è stata scoperta e valorizzata con quelle che poi sarebbe stata addirittura a tre anni più tardi la terza guerra di indipendenza per cui i volontari e i bambini scorrevano lungo la grande trilogia atriatica e andavano in mezzo alla terza guerra di indipendenza le sue turbinose vicende e si scopriva da parte della costa Bologna e Milano che da Agri e sul Mose da Mascolo erano stati scoperti ma questa è la differenza che la costa granita partendo dalla Puglia e qua parliamo delle cantite sociali partiamo della bicicultura partiamo dalle novità di carattere commerciali di Togliari soprattutto concentrati sul guido e sull'olio e queste sono cose tra l'altro anche bugliesi violentissime nel terramaro soprattutto ma comunque il contributo pugliese di cantite sociali cioè qualche cosa di nuovo di ottocentesi di democratico di radicale che va a finire a Bologna e a Milano Bologna non solo per l'università ma perché Bologna è un grande centro di carattere sociale di carattere culturale e Bologna mi si consenta cos'è la cimenteria è la città che dà la cittadinanza onoraria a quel canto vado nel secondo ottocento cioè scopre la novità della grande musica romantica tedesca e contro la conservatrice Milano questa ancora legata a Verdi e alla tradizione romantica ottocentesca scopre Magner attraverso un centro che ha inocchi e attraverso una certa mentalità radicale democratica repubblicana che è stata proprio di Bologna ora questa è la cosa che non scopre l'interno resta o legatissima sempre più legata a Roma perché Roma resta il punto di riferimento dei lavoratori ma anche dei professionalisti ma anche dei nuovi politici dell'interno a Bruttezza io ricordo sempre il caso dei muragliosi del Tevere che sono stati costruiti da un ingegnere a Milano e la presidenza della Camera di Commercio di Roma negli anni della grande articolazione dell'inizio cioè negli anni 80 dell'ottocento che sono stati presieduti da un a Milano i Federici e gli altri grandi imprenditori che in epoca fascista sono stati protagonisti del rinnovamento fascista di Roma via dei fuori imperiali come lo si voglia chiamare questa presenza fortissima a Roma e questo progressivo distacco da Napoli e per cui Napoli è la capitale diciamo formale e però si può fare a meno di Napoli di Napoli possono fare a meno un po' tutti tranne Roccarati ma Roccarati scoperta dai napoletari a scopo turistico solo a scopo turistico non c'è una scoperta di un abruzzo legata a Roccarati Roccarati sono uno strumento per la grande chiamiamola anche speculazione napoletana e allora voi capite che queste diverse pressioni queste tendenze queste influenze non sono differenti ma anche che vanno in senso quasi opposto l'uno all'altro quando si che il criterio unitario della regione sia molto difficile e il criterio dei tre abruzzi sono stati fino diciamo alla metà del novecento e non è solo un criterio folcloristico è un dato di fatto se non altro il tuo abruzzo citra abruzzo citra che ricordate è una novità ma è durata per cinque secoli e mezzo solo i francesi all'inizio dell'ottocento hanno cambiato ma per cinque secoli e mezzo la bruzzo citra è stata una realtà amministrativa politica istituzionale che faceva a cavo a chiedi al morrone alla maiella di cui abbiamo parlato e soprattutto comprendeva sul moda e la sua punca e l'artopiano maggiore roccalato di risotto e casa di sacro che oggi non dico assolutamente ma con una certa forzatura fanno parte della provincia dell'Aquila ecco questo è qualche cosa diciamo che va oltre la tentativa di che quella parte continua a gravitare verso Napoli che ha un suo significato già Pescassero lì a percorazione è una cosa diversa perché Pescassero può rientrare nell'ambito romano paroccalato e casa di sacro no ripetono il pesco costante risetto di Monte Casino dal punto di vista religioso di Napoli dal punto di vista di ogni genere diciamo non mettiamo limiti alla providenza ora questo è un dato di fatto lunga la corsa c'è Bologna e Milano come abbiamo detto cioè qualche cosa che vuoi il resto dell'Abruzzo per lunghi secoli ha potuto fare a meno di fare i conti ora questo pone un problema un problema che è un dato di fatto che in una collaborazione diciamo fra i cittadini della Repubblica ecco qua dovremmo andare un po' al di là del limite regionale più che mai del limite campanilistico ecco la Repubblica che è qualche cosa che è vedete c'è stato un caso il famoso articolo 9 della Repubblica della Costituzione che è un articolo tra i più interessanti che dice che la Repubblica dipende promuove il paesaggio e la possibilizzazione dei paesi culturali e la Repubblica non lo ricordo con esattezza ma in questa forma ora in sede costituente anziché la Repubblica era stato detto lo Stato lo Stato promuove la valorizzazione eccetera perché perché la Repubblica perché la Repubblica presuppone l'ordinamento regionale il che è stato sottinteso che all'interno della Repubblica la Regione dovrà procurare lo sviluppo e non lo Stato che avrebbe dato questo tono imperatorio unitario diciamo di una falsa varietà e quindi sovrapponendo un'autorità diciamo astratta e imponente alla varietà regionale quella varietà regionale che poi è stata riconosciuta nell'Abruzzo e in Molise la separazione del Molise è così semplice così naturale è così sentita dalle popolazioni e poi quel problema del capoluogo eccetera che non è solo una rissa anche se questo tale è apparsa tra le due cittadini ma è un problema che come cittadini appunto se la Repubblica è di una Repubblica regionale correttamente regionale in cui quindi le spinte locali le spinte specifiche che hanno seguito attentamente presente noi non dobbiamo trascurare e viverle come cittadini perché la prima cosa che è il nostro dovere molto al di là di quelle che possono essere ricostituzioni più o meglio dell'unica è quella della presenza io dicevo all'amico Santa Maria D'Aci che mi sono permesso di rivolgersi a lui perché lui è un cittadino del mondo e l'essere cittadino del mondo o almeno dell'Abruzzo è già qualche cosa che noi dovremmo dimostrare con i fatti di essere cittadini della Repubblica e dell'Abruzzo professore professore allora però io mi volevo questa questione c'è una realtà quindi storica di dinamiche anche socio-economiche che determinano questa identità frammentare soprattutto dualistica direi però è anche vero che al come dire tentativo di non dico costruire o immaginare un'identità unitaria ma comunque di trovare dei punti di sintesi e di mediazione da parte del ceto politico mi pare che siano stati piuttosto scarsi cioè io trovo che c'è storicamente o comunque questa è un'opinione che le sottopongo perché diciamo i tre grandi come dire i tre grandi leadership politiche che hanno guidato questa regione quella liberale nel periodo immediatamente post-unitario il fascismo e poi la democrazia cristiana sostanzialmente nel secondo dopo guerra ecco tutte queste tutte queste tre leadership questa è la mia impressione come dire hanno accettato una posizione che era dal punto di vista della progettualità subalterna rispetto al centro nazionale cioè hanno in qualche modo barattato il consenso sul territorio il controllo del territorio rispetto ad una anche quando si sono mossi a livello alto ministeriale perché la Fruzza ha avuto anche personalità politica di grandissima importanza che però di fatto non hanno inciso non sono riuscite a portare l'Abruzzo dentro una progettualità nazionale ma hanno subito quella che era la progettualità del centro politico nazionale ecco è una mia impressione o c'è della verità in questo? è proprio questo il problema che si poteva l'altro in maniera vistosissima ha domani delle nudità e quando nudità di tipo piemontese o comunque di tipo tartocranese sostanzialmente il punto di riferimento è sempre quello giacopino napoleonico dell'inizio del sottocento con il prefetto con le prefetture con le sottoprefetture quindi un tipo fortemente di stato accentrato e autoritario in tutta Italia e però il problema non si poteva minimamente diciamo una rotta del novecento in cui la varietà dell'Abruzzo e diciamo l'essere circoscritto la classe politica al proprio corregio elettorale è un tanto di fatto uomini come Silvio Stavento è stato un uomo più notevole che abbia prodotto l'Abruzzo nella seconda metà dell'Ottocento in campo politico sconfitto a vasto e a patessa più esattamente che era il suo collegio elettorale si riferisce a Bergamo e a Bergamo continua a essere eletto deputato finché poi il senatore scompare nel 1896 non risente minimamente della sconfitta locale né cerca di affermare una sua autorità più che locale nel caso del collegio originale e così nel caso della massica ci sono personaggi il principe a sciarla per esempio ha importanza perché ha dato la tribuna tra l'altro quindi diciamo anche dal punto di vista giornalistico moderno di una certa cultura quotidiana Roma cultura politica è deputato per molti anni della massica anche a Tavio ha lasciato cento di sé con nuovi edifici con nuova visione urbanistica e però la serviva era una massica altrimenti nello stesso fascismo noi assistiamo a questa spartizione di compiti giacopo acerbo e aderci sereno e i quali siedono praticamente a posti di comando diversi peraltro e questo notate perché è significativo cioè serena continua il partito acerbo continua il ministero e non è la stessa cosa non è la stessa cosa acerbo specialista del problema agricoltura dell'evole su che con la sua vecchia esperienza di Lorenzo è un tipo di agricoltura già avanzata che dava modo di avere esperienze anche dirette al di là dell'aspetto scientifico e dell'aspetto culturale e però questo è un problema della modifica integrale ecco la modifica integrale è un problema nazionale soprattutto con Chiesa soprattutto nel tavoliere di Cuglia dove fa chiesa acerbo e fallisce Sertieri perché i grandi proprietari locali sono specificamente occupati di un libro poco conosciuto come quei libri che vengono commissionati dalle amministrazioni locali come in questo caso l'amministrazione provinciale di Mongia che mi chiede la carta d'arte del periodo fascista e io mi sono occupato di quella che è molto interessante il partimento di questa visione nazionale serena sa del partito e da potestà di L'Aquila e non più che questo è il deputato delle borbe pubblicità delle fasciste nel 32 lascia l'incarico a Milano e entra nel direttorio del partito nazionale fascista di cui dal 40 ancora tutto sarà segretario nazionale e il ministro dei laurei pubblici per un anno ma questo ministro dei laurei pubblici non fa che concludere certe operazioni anche urbanistiche ma di secondare importanza sostanzialmente quindi voi vedete che anche l'impostazione la divisione che è stata per scontata serena si dedica ad Aguila e ad Aguila non ha altri interessi una presenza di questo personaggio è certamente autorevolistico nell'abbrusso del sud se ne raccoglie per Acerco è diverso perché c'è questo retroterra di carattere proprietario che è amato e chiedito che o d'accordo con lui o in più o meno valese disaccordo e però si raccoglie un certo dirigente di carattere appunto agrario di carattere proprietario proprietario che ad Aguila non esiste la proprietà terriera non è mai esistita non ha mai avuto una funzione determinante il fuggito è il fuggito è il fuggito il fascismo non ci mette pezzo cioè il nodo svolta che ha sistemato la situazione e quindi non si entra più in questi problemi questo è un maggior motivo poi anche nel secondo dopo Weber insomma anche in questo caso probabilmente questo non si è consentito dirlo perché meriterebbe un approfondimento tentativi di carattere regionale cioè di spingersi al di là dell'ambito modificato del campanile non si è divatti da due uomini politici abbinati cioè da Lorenzo Natale e da Nello Mariani in campo socialista questi due uomini politici hanno almeno tentato di avere un loro seguito una loro presenza tantamente regionale Caspari lo ha avuto così poco che essendo venuto mi si contente questo senso personale che essendo morto il nostro imprenditore a Milano a lui legato da Vicini evidentemente nella chiesa di Santa Maria Magandria la maggior di Milano mia madre provandosi a passare vede Caspari che si trovava da tempo e andò e si mise anche lei in prima fila proprio restando stupefato che questo personaggio fosse venuto ad Aquila sia pure per motivi del tutto contingente perché sembrava incredibile come era incredibile che Caspari potesse apparire ad Aquila e consapevolmente anche senza che Caspari si pronunciasse mai con un ricordo del libro come genusaggio di Pescara quale aveva dichiarato di essere Giuseppe Spataro che non era stato Manco e Spataro però questo fatto di farsi paradino di una città ecco e in Caspari di una forma diversa c'è una fortissima presenza caspariana anche nella provincia dell'Arco io ho del cristissimo ricordo a questo proposito che dimostrerebbero sempre raccontarsi ma non lo posso fare per variati motivi la cremine violentissima demigratoria che è c'è all'interno tra le fazioni democristiane tra i nataliani e i gaspariani è difficile definire a quale a quale bassezza si giuggesse quindi questo è anche diciamo un degrado del livello politico di partito e per cui la democrazia come si diceva se si termina giugge la democrazia cristiana era praticamente un sistema che mi aveva preso nelle forme più clientelari e patentalistiche possibili dopodiché penso che sulle onnes come si diceva un tempo dopo che ci furono questi cattici per usci a metà del novecento nella seconda metà del novecento da allora in poi diciamo sulle onnes adesso poi c'è entrato pure il terremoto per rendere ancora più complicato e allora qui in decimulabile il padorato politico a protese quando ero bambina mi raccontavano storie di Tara San Martino perché la mia era di Tara San Martino che c'erano i briganti che camminavano sui mondi e arrivavano a Napoli però a Napoli facevano delle merci allora i briganti quando poi avevano avuto i soldi li mozzavano la testa secondo quello che dicevano la mia famiglia che poi mettevano la testa in un tovagliolo lo legavano e lo riportavano alla famiglia se era una favola per fare le pressioni ma non mi sono mai pressionati si poteva essere certe dell'esito questo lo faceva anche un fado legalmente cioè per essere certe dall'alto parso di un brigante che dobbiamo portare la testa del brigante e così in questo caso diciamo il ritatto o quel che posa dall'altra parte questo però diventa più tanto strome che da altro ma parte diciamo della imperatezza del tempo ma questo libro è talmente stimolante che le domande sono parecchie però voglio riprendere un altro che ha raccontato Marco a proposito di Dallunzio per dire come tutto il mondo è paese io a Praga mi ho raccontato per la verità l'ho scritto in un racconto un grande scrittore preghese Bob Mir Raballa una volta un turista va a Praga e cerca la casa di Franz Kafka allora chiede a un signore dice scusi mi sai indicare la casa di Kafka e quello dice Kafka ah ma c'è l'aria questo la porta a fianco è un caso molto più di recente si fa per dire a me negli anni 80 sono andata a Praga ho chiesto dove era la casa di Kafka il tassi che mi portava mi ha detto io però non mi fermo e mi ha indicato quella che doveva essere questa casa dove avevano trasformato almeno il piatto di vena nella banderia ma io non mi fermo mi ha detto eh ma guarda potrei raccontare io ero lì quindi insomma sono mossa c'era il comunismo eh no eh è di lingua tedesca allora io dice a un certo punto il professore con la pietra io sono molto portato alla biografia devo trovare il personaggio i personaggi miei muoiono male e soli ecco poi è sconfitti anche io ti voglio chiedere qual è il suo personaggio ideale visto che ne ha affrontati molti ma vorrei anche vorrei un'altra domanda ne ha parlato insomma anche io un po' è il ruolo della ferrovia nello sviluppo della civiltà bruxese cioè quello della costa che ha unito il sud al nord e l'altro verso il sul mondo è Roma la costa subito dopo l'unità Italia mi pare il 1863 ecco se da una parte la ferrovia ha avvicinato a grandi centri come Bologna e Milano dall'altro ha portato anche una certa colonna di Lisbo in Abruzzo se parlo dei centri di produzione culturale cioè delle università negli anni 60 nasce la libera università e io ero studente un po' dopo ma insomma se vi dico il mio professore di letteratura inglese era Carlo Itze che eriva da Bologna il professore di filosofia era a Grimi e veniva da Napoli il professore la lecita il professore di letteratura italiana veniva da Bari ed erano tutti i professori che arrivavano a Pescara o a Chieti o a Teramo facevano la loro lezione e poi ripartivano per Napoli per Milano per Polonia per Bari per Torino ecco qual è stato il ruolo perché mi pare che non se ne parli molto in questo il ruolo dei centri che dovevano essere di produzione culturale intellettuale ora ci sono molti professori a Bruzzese naturalmente nelle università a Bruzzese ma allora non c'erano nemmeno un po' a fare non so detto ma pochissimi professori di Abruzzese ecco qual è stato il ruolo dell'università e poi un'altra cosa che volevo chiedere il ruolo della pubblicistica di Abruzzese le grandi riviste come le grandi riviste hanno contribuito allo sviluppo dell'appunto dell'abruzzese e penso soprattutto alla rivista abruzzese di Giacinto Pannella che mi pare sia un punto di riferimento obbligato per la pubblicistica di Abruzzese scusi tre domande in una penso qua anche perché sostanzialmente il discorso della tecnologia si sintetizza molto rapidamente nel senso che la funzione e la prospettiva innovativa e addirittura rivoluzionaria è esclusivamente quella costiera perché la Roma pescata praticamente non ha avuto alcun significato perché ciò che gravitava verso Roma ci gravitava da secoli e ha continuato a gravitarci e ciò che non ci gravitava da Torre dei Pazzi da Caravaggio da Tocco Casauri resta la situazione che c'era prima non è che ci sia stata un'emigrazione verso Roma perché Roma è stata da sempre un punto di riferimento obbligato per l'Aquilato e per l'Ansica già sul Mono hai qualche cosa di a sé perché ha una tua autonomia come abbiamo cercato di accennare di autentico Abruzzo legato a Roma ma abbiamo detto che ha una ragione d'essere come tanto di fatto profondo è un argomento che ripeto che penso che credo resti aperto necessariamente perché ha avuto questo carattere coloniale evidentemente coloniale e tra l'altro anche moralistico perché nel caso Aguilato di Vincenzo Rivera il magistero femminile è stato istituito per sottrarre le ragazze alla tentazione e ai pericoli del soggetto a Roma quindi proprio con garanti da educandato perché purtroppo questa mentalità paternalistica e diciamo paternalistica e letterale era un dato di fatto abbastanza diffuso ne credo che la soluzione per i chiedi dell'università Gabriella Luzzi sia stata granche diversa anche là trattandosi di personaggio per esempio Luzzi è dimenticabile è preparatore che è stato diciamo avuto dell'interprete ma era legato a Chieti solo dal ricordo del padre che ci aveva insegnato tra voluto e naturalmente della madre che anche è stata Chieti di la mia vita che è stata in circolazione e la seconda a Chieti quindi ha un carattere puramente sentimentale legato semmai a quella meravigliosa ediglia che qualcuno di voi voglio sperare ricorda l'esistenza che stava nella biblioteca provinciale che non so che vita abbia fatto tra l'altro quello è Tumasino Poglione e le viga ha detto che vita abbia fatto al di là dell'edificio e quindi ha questo carattere diciamo molto come dire se non epilettico perché poi ha avuto ed ha tuttora una partecipazione intensissima dal punto di vista numerico ma dal punto di vista diciamo di sviluppo di una determinata cultura abruzzese cioè l'attenzione a parte alcuni casi che ci hanno sentito qua perché so per cari non posso non tempo far a me così dire il carissimo il luce amico Lorenzo Bartolini nel campo dell'architettura religiosa abruzzese ha fatto lui perché l'ha voluto fare lui insomma se si dovesse dire qualche cosa di simile ad Aquila c'è Fabio Leti che sta occupando benissimo di archeologia medievale ma è legato agli interessi personali di persone che poi fortunatamente per motivi del tutto personali restano a lungo e si dedicano sistematicamente a queste ricerche però noi abbiamo avuto ad Aquila qua parlo di Aquila perché ne ho più diretta nozione Roberto Roversi che è il più illus studioso di San Bernardino da Siena che come voi sapete è stato con Santa Caterina benemerito per far rimanere la lingua italiana viva nel secolo del latino che è il 400 nel 400 si parlava solo latino praticamente il volgaro dopo Boccaccio e Sacchetti praticamente a livello colto andava a sommarello mentre le prediche di Bertanzino e di Caterina mantengono vivissimo il seriese che poi si riappoggerà successivamente ebbene il lungo soggiorno di Roversi ad Aquila dove si è morto il seriese non ha portato assolutamente a niente perché non avendo più interesse di occuparsi di San Bernardino nessuno gli ha chiesto di dare un contributo di dare a certe cose tipicamente a quei anni un suo contributo aggiornato e autorevole e quindi è stato un personaggio un professore come tutti gli altri e questo avviene frequentemente è inutile fare nomi e fare esempi quindi una cosa specifica diciamo di valorizzazione di cose abruzzesi ecco c'è stato in provincia di Teramo c'è stata quella cosa del crugnola cioè quella ricerca che già fino a 800 fu fatta di tutti gli aspetti della provincia di Teramo cominciati da quelli strutturali agricoli imprenditoriali e anche i politici e i folclorici che è stata riprodotta dopo un 6 ho detto ma giornata se non altro però anche là non credo che la presenza dell'università sul tessuto molto cambiato dalla provincia di Teramo di carattere imprenditoriale da oggi che non di carattere proprietario come è stato per lungo tempo sia avvertibile del resto questa proliferazione di università di ogni specie di ogni livello e con ogni diciamo credenziale possibile immaginabile è un fenomeno che si è verificato per lunghi decenni e che non accetta a mutare o a avere diciamo un diverso statuto e una diversa articolazione è un dato di fatto di cui bisogna prendere atto senza che questo abbia né dal punto di vista culturale e nemmeno dal punto di vista sociale che almeno potrebbe essere anche foriero di qualche risultato più moderno qualche cosa di avventibile sostanzialmente partecipano molto più alla movita notturna che non alla vita culturale che la fita a questi giovani e i professori spesso ripetono ripetono diciamo e la credo che lo avremmo potuto smentire caro amico Stefano Trichetti che così benedetto ma anche lui benedetto di studi che vanno bene al di là dell'Abruzzo questo si ha detto propa retta si e Stefano è un studioso benedetto ma della Francia della Germania e del campo internazionale che ci sia una bibliografia bruttese di Stefano Trichetti che io tanto non c'è e ha fatto pericolo perché non tanto di fatto però è una scollatura che c'è tra la vita sociale la vita quotidiana della politica e queste strutture che ci sono che hanno il loro significato però più di carattere professionale in senso andante e che non di formazione culturale e di coscienza civile e culturale e l'unità diciamo anche della nostra è un certo punto di vista cosa dire però posso dire una cosa ecco professore è grazie e grazie però devo dire che le università se non hanno lasciato traccia del settore letterario sicuramente l'hanno lasciata per esempio parlo prima dell'acqua prima del terremoto c'erano almeno tre poli di eccellenza dovevo nazionale c'era la climatologia nella facoltà di fisica c'erano tutti gli studi che abbiamo fatto noi nel dipartimento di scienza ambientale che hanno portato poi all'istituzione delle aree protette quello l'abbiamo fatto noi poi a e poi c'era a ingegneria un polo soprattutto nell'ingegneria meccanica ed elettrica di eccellenza per esempio la modifica che hanno fatto i rottori dell'elicottero la compagno il gruppo di bignardi ecco la la monza invece si è specializzata soprattutto nel settore della medicina e della farmaceutica e con dei brevetti anni significativi io ho insegnato 18 anni a farmacia e posso dire che nei congressi e nelle varie manifestazioni diciamo in cui si mette in evidenza la ricerca che si fa si avevano sempre risultati quindi le università di un cese però dall'inizio noi siamo stati colonizzati io sono uno che posso dare testimonianza storica perché sono entrato nel 67 alla facoltà di scienza però via via si è creato poi questa unità di presenza locale regionale soprattutto nei settori scientifici con la pietra sicuramente si ricorda il gruppo di disconti che nella climatologia che peraltro devo dire proprio per un'estate pubblicitaria è l'unico che è nell'accademia dei licei quindi di tutti centinaia dei professori che abbiamo girato qui nelle varie università dalle lettere di l'inghese eccetera ci sta qui risconti che è accademia dei licei proprio strutturato quindi questo è un banco perché riscopri non sono in nati all'Aquila quindi se è laureata all'Aquila e quindi è un prodotto di incendenza delle nostre direzioni chiedo scusa il discorso era soprattutto su quello che l'università ha prodotto rispetto alla conoscenza della luce quindi chiaramente il discorso era di fare però l'integrazione che volevo osservare non è solo il luogo ce lo fa dire perché tutto sommato se stasera con la perra ha scelto come interlocutore i due che hanno collaborato con lui nella sua attività culturale rispetto alla Rai c'è da dire che la Rai in Algrusso veramente ha sporto questa funzione di produzione culturale e in questo non me ne vorrete il merito è di tutti quelli che ci hanno lavorato ma soprattutto di Edoardo Tiponi che poi ha concepito anche tutte queste istituzioni proprio con questo film cioè d'altra parte lo stesso istituzione di studi crociani con i cinque volumi della storia d'Abruzzo dal Medioevo fino al novecento di fatto ha dato un contributo fondamentale che penso fosse utile riconosce un altro intervento di Fabrizio Masciangeli però questo adesso ho le parenti chiede perché se no se no le persone devono riempire se no non frigo allora non so quanto tempo ci sia perché ho tantissime cose dieci minuti allora mi avvio diciamo scelgo la cosa più leggera poi se c'è tempo magari ritorniamo su qualcosa di più sostanzioso allora i grandi i grandi letterati no nel libro si parla già abbiamo accennato di D'Annunzio del fatto che a suo modo il professor Colabiella preferisce D'Annunzio perché dice che D'Annunzio si fa conoscere D'Annunzio ma è il suo D'Annunzio che in realtà non è D'Annunzio dell'epoca questo è un piccolo particolare tanto è che nel libro il professor Colabiella ricorda anche un episodio molto bello quello di questo deputato socialista Costinone che organizzava queste tour in macchina dei parlamentari per far conoscere D'Annunzio erano parlamentari erano giornalisti la serata insomma alcuni di questi poi scrivevano delle recensioni rispetto a questi viaggi e alcuni di questi dissero ma noi siamo andati in Aperuzio abbiamo fatto questo viaggio pescare eccetera molto bello interessante però cercavamo i miei pastori eccetera e non li abbiamo visti cioè non c'erano non c'erano i miei pastori cantati poeticamente da D'Annunzio quindi il problema di Silone che viene messo diciamo un gradino sotto D'Annunzio però dice una cosa molto bella molto bella il professor Colli Petra secondo me molto reale e Silone non ci serve tanto per capire la storia delle battaglie sociali del Fugino eccetera però il cafone di Silone è lo stesso Silone dice con la pietra e questo è benissimo nel senso che il cafone siloniano non serve tanto per farci conoscere la storia delle battaglie contadine eccetera proterriere contro i tornori però è una metafora del conflitto scrive Eccola Pietra fra tirannia e coscienza fra potere e sfruttamento e quindi lì vive una dimensione che è una dimensione storica molto più grande di quello che è il conflitto sociale in Abbrus ecco però non posso fare a meno di dirlo perché siamo qui al Mediamuseo siamo nella patria di Flaiano nell'elencazione dei grandi scrittori eccetera nella Trimurti manca Flaiano però c'è la Bollani c'è la Bollani che però viene un po' liquidata con una certa perché secondo me non piace tantissimo il professor con la pietra però la Bollani è già come dire fa diciamo dal punto di vista a proposito dei come dire degli stereotipi la triade abruzzese e D'Annunzio Silone e Flaiano ora io mi chiedo ecco mi incuriosisce un po' questa cosa perché c'è questa assenza sicuramente Flaiano è come dire è molto romano cioè sicuramente ha la sua insomma si è affermato si è strutturato eccetera comunque si è costruito come sua figura intellettuale già nella dimensione nella dimensione romana però nello stesso tempo secondo me è molto interessante perché in qualche modo incarna incarna quel rapporto tra l'intellettuale che dalla provincia in qualche modo si misura e si inserisce e si colloca nel grande mondo della cultura e dello spettacolo come fa Flaiano rispetto al cinema eccetera cioè voglio dire questo il marziano a Roma secondo me è parecchio abruzzese è una metafora parecchio abruzzese quella del marziano a Roma che ne pensa con la pietra o darsi che lo vediamo noi non so fino a che punto lo posta in lui perché è il mondo che è diciamo l'ambiente culturale politico che io seguivo attentamente lo andavo a comprare tutte le settimane in edificola al mondo proprio dell'epoca d'Utmaiano degli anni 50 era un punto di riferimento di una classe dirigente politica e culturale del tutto particolare che si separava si sequestrava rispetto a quella che era la generalità o la genericità dell'Italia squallida dell'epoca cioè di una certa situazione che sembrava senza uscita se non il faticoso avvicinarsi del socialismo a una congezione più democratica e che sottraesse all'egemonia diciamo sovietica polscevica in genere e restituisse a questa grande tradizione socialista un suo significato nella società italiana e io a Flaiano darei sempre una funzione soprattutto di testimone di una mentalità di una moralità di una minoranza intellettuale morale dell'epoca degli anni 50 e 60 non andrei oltre questo non a caso la genialità di Eduardo Tiponi consiste nell'aver creato il premio Flaiano per i soggettisti cioè non per i registi che è questa la data per scontare non per gli attori che è questa la data per scontare ma per i soggettisti cioè per coloro che fordissero al film ma illa per altro anni per i soggettisti